Non è il solito qui. Oh, vi prego. Non è solo un gioco a premi. 50 milioni di premi! Non è un semplice show. Signora, mi presta il bambino? No, grazie. No, niente. Non è soltanto un'oasi culturale. Non è solo una sfida all'umorismo. Meglio bianchi che senza! È molto di più. È la ruota della fortuna. Ogni sabato alle 19.30 su Odeo.